Ragazzi ben ritrovati in questo video, il contenuto che state per vedere è stato creato in collaborazione con Lab Audio Technology Si tratta di un'azienda italiana che produce cavi, ormai io utilizzo soltanto cavi Lab Audio Technology e tutto il mio nuovo rig che vedremo in un video futuro molto a breve, sarà integralmente tutto cablato con questi cavi Appunto non si parlerà del mio rig in questo video ma di quello di un altro chitarrista ormai affermato a livello nazionale, internazionale senza ombra di dubbio Si tratta ovviamente di Matteo Mancuso Matteo è artista Lab Audio Technology, utilizza anche lui soltanto questi cavi e ci spiegherà in questo video tutto il suo rig Che cosa utilizza, perché lo usa, come lo regola e tutto il resto In descrizione trovate il link per questi cavi se vi interessano, se vi piacciono e tra l'altro utilizzando il codice FDC20 avete il 20% su tutti gli acquisti che farete Nella scuderia di questa azienda oltre Matteo ci sono anche Luca Mantovanelli, Claudio Pietronic, Mattia Tedesco, insomma tutta un'altra schiera di chitarristi ultra famosi e professionisti Per farvi capire che stiamo parlando di un cavo, diciamo definitivo, quelli che si usano proprio negli studi Detto questo vi lascio al contenuto e a quello che ha da dirci Matteo Mancuso Ci siamo? Funziona? Funziona? Io ti sento Io ti vedo e ti sento pure Intanto c'è una differenza tra quello che tu usi per esempio in casa, nella tua stanza studio e quello che ti porti in giro per esempio quando ti ho visto SHG Come rig, cioè hai un rig live e un rig a casa? Ma sì, più che altro rig a casa è rig magari per studiare e rig per registrare Quindi sono due separati a loro volta Sì, sì, se devo studiare posso anche studiare a chitarra spenta o per esempio sul divano attaccato con un amplificatorino va benissimo Devo registrare al 90% dei casi, per adesso sto usando la Stone Pixel che ce l'ho proprio qui sotto Collegata direttamente alla scheda audio Sì, sì, al 99% uso Elix Ho provato a registrare un twin qualche settimana fa Reale parliamo? Sì, reale, sì Infatti non è mio, è di mio padre Bello, scroccato a tuo padre alla grande Sì, scroccato perché volevo provare proprio a registrare l'ampli reale Però guarda, la realtà è che con l'ampli reale, almeno nel mio caso, poi non so se troppo rumore di fondo Ma tanto, anche se ho registrato un clean senza distorsione Con l'Elix non succede uno perché quando posso utilizzo il noise gate E due perché comunque non c'è E il fatto di registrare con Elix mi permette intanto di avere sempre lo stesso suono Magari tu il giorno dopo non sai, con l'ampli reale sposti il microfono un pochino Il giorno dopo c'è un suono diverso Sicuramente è un po' più difficile da gestire Cioè è più difficile registrare con l'ampli reale Con il vero microfono, sì Hai mai provato soluzioni ibride tipo con attenuatori, aux? No, in realtà no, in realtà no Ho voluto provare io proprio direttamente ampli, puro, attaccato alla chitarra Il microfono davanti senza nessun tipo E c'è il classico ah di sottofondo Purtroppo sì Ma invece non senti alcuna differenza tipo tra il twin dell'Elix e il twin vero Cioè lascia perdere il rumore di fondo che è quello un problema Però quando suoni c'è, dici vabbè, non sento la mancanza dell'amplificatore vero Allora il fatto è questo, io quando suono con Elix il suono lo sento sempre dai miei monitor Ovviamente quando suono col twin o con un amplificatore vero hai il cono che è fatto apposta per la chitarra Di conseguenza c'è qualcosa in più lì Poi io non sono un grande smanettatore di padriere Nel senso io con Elix uso sempre quei 3-4 ampli a cui mi sono affezionato nel corso del tempo So già la catena da utilizzare, come gestirmi le cose E quindi magari non approfondisco la cosa più del dovuto Nel senso ho un suono che mi piace, ok, basta E questi di Elix che suoni sono? Che catena, cioè che ampli usi su Elix e che catena generalmente hai? Allora per Elix principalmente uso due ampli Almeno col trio sto utilizzando due ampli Uno si chiama il Matchstick Channel 2 Simulazione del matchless E quello lo uso solo per il distorto Il clean invece è sempre una sorta di twin versione Elix Il twin sì, è sempre stock per tutti i possessori di Elix si chiama US Deluxe Normal Ah il Deluxe E sarebbe forse il primo che trovi nella lista Qualche volta utilizzo anche il Jets Rivet Occasionalmente il Jets Rivet è un po' più scuro, un po' più jazzistico appunto E non gli metti i pedali Eh no no, il matchless lo accoppio con un overdrive Il pedale si chiama Valve Driver Ok ho capito qual è È quello, vabbè lo metterò l'immagine perché ho capito qual è Forse è quello simile a quello che mi sto piatti comunque Sì sì ho capito Cioè questa Elix sia a casa che quando per esempio ti ho visto SHG Quando hai fatto i tuoi brani era sempre questo setup Sì sì, all'SHG utilizzavo Però sì, l'accoppiata è sempre quella Matchstick, nel caso del distorto Matchstick L'IR, il cabinet E poi vabbè il Valve Driver E invece quei suoni clean che ogni tanto ti sento utilizzare Cioè anche sicuramente usi delle modulazioni Più è il chorus Quello è praticamente lo stesso preset che uso per il clean Però lo uso quasi sempre col pick up al ponte Se devo fare quei tipi di accordi col chorus Per farvi squillare un pochettino di più Sì sì, tipo quando faccio Fred per esempio Con un pezzo di Alan Osworth che abbiamo in scaletta col trio Esatto, proprio di questo stavo parlando C'è scritto solo chorus, non è il vintage chorus È il chorus Proprio chorus, esatto No ed è tutto abbastanza semplice Perché ti ripeto non mi piace molto smanettare con l'Elix Perché so che puoi approfondire in modo bestiale Sì, voglio E soprattutto se vuoi puoi raggiungere il risultato che hai con l'Ampli Quando lo attacchi Il vantaggio dell'Ampli è che hai un punto di partenza qualitativamente più alto Come dire, non hai bisogno di smanettarci troppo Parti già bene E quindi questo è il tuo setup amplificazione diciamo Cioè quasi mai ti ritrovi a dover uscire un amplificatore Tranne quando proprio vuoi fare l'esperimentino a casa Ma generalmente è sempre Elix Sì sì, generalmente è sempre Elix Sia quando sono qui più che altro Perché posso cominciare a registrare subito E so già che E quando sei in stanza col trio come ti senti? Avete le casse all'impianto e hai Elix all'impianto in stereo? No no, quando sono in stanza insonorizzata col trio siamo tutti in cuffia intanto Ah ok Ovviamente per evitare il rientri della batteria Quando sono in stanza insonorizzata registro dry senza effetti né il riverbero né il delay Però ho un riverbero in ascolto che non è dell'Elix Lo metto come plug-in Lo metti come plug-in? È un plug-in dell'Universal Audio, sì Non so se in aeroporto mi parlavi di un plug-in era il Marshall Plexi dell'Universal Audio Sì Sì Insomma mi ricordo Che onestamente l'altra volta Mio padre ha un sacco di ampli qui Abbiamo provato una volta appunto a comparare il Marshall Plexi vero a quello al plug-in Sì E ricordo che io poi ho ascoltato Proprio suonavi le take? Sì sì Allora io ho suonato, ho registrato le cose Poi onestamente ho dimenticato quale fosse il Marshall vero e quale fosse il plug-in Mio padre poi mi ha fatto ascoltare le take Ho detto sì però questa mi piace di più sai E quello era il plug-in Mamma mia Possessore di Marshall Plexi tutto in vendita Ormai si è raggiunto un livello incredibile Ma da tanto tempo Chitarre, cioè io ti vedo sempre con la tua Però quando vedo i video di quando eri un po' più piccolo Oddio non so quanti anni avevi in quei video Però ti ho visto sempre con un SG che poi si è evoluta Diventata questa Yamaha perché hai iniziato il contratto con Yamaha Questa partecipazione alla collaborazione Sì sì, con Yamaha ho iniziato nel tipo 2016-2017 E quindi questa evoluzione della chitarra come è diventata quella che hai adesso? Cioè c'è una scelta per cui sei più sul Gibson Style Perché questa Yamaha comunque è in quella sfera là alla fine Ti dirò io ho cominciato con l'SG semplicemente perché mi piacevano un sacco gli ACDC E volevo la chitarra di Angus Young La cosa era semplice, voglio quella chitarra Ho iniziato con un eco che era pesantissima Era spessa così Mattone Però ero contento perché era la diavoletto Eri Angus Young Ci assomigliava abbastanza alla Gibson di Angus Young Quindi ero contentissimo Poi dopo un po' è arrivata la vera Gibson La Gibson SG Ti dirò è stato sia per il fatto che mi piacevano gli ACDC Sia per il fatto che era una chitarra piccola e per me era comoda Era tasti grandi Era... mi piaceva molto E in generale perché avevo quegli ascolti lì Quindi... soprattutto quando sono andato in fissa con Eric Johnson E questa Yamaha che hai ora l'hai fatta fare sulla base di quell'SG Perché mi raccontavi che questa ha un... Cioè non è una classica Yamaha di quella che trovi al negozio No, questa intanto l'ho fatta fare partendo dalla Repstar dall'820 Dal modello 820 che è in commercio Questo invece non è in commercio perché è un modello customizzato su misura diciamo Ma non ci sono tantissime differenze rispetto a una Repstar normale Ed è Made in USA questa? Sì, questa è Made in California l'hanno fatta Che fa strano per pensare a Yamaha Made in California Però evidentemente hanno... Sì, sì, la Yamaha più americana che puoi trovare Veramente, io tutto è giapponese, le sapevo E questa l'ha costruita un liutaio che lavora per Yamaha Si chiama Pat Campolattano Noi ci siamo conosciuti quando sono andato al NAM nel 2019 Abbiamo parlato di questo progetto di una... di un'ipotetica custom Ed è venuta fuori questa In realtà non è tanto differente da una Repstar normale come ti dicevo Però c'ha quelle piccole chicche che la rendono per me una bellissima chitarra Intanto i pick-up sono dei Lollar, Lollar Imperial E hanno una risposta incredibile Sono molto, ma molto ricchi come sonorità Quindi sicuramente è un po' più brillante rispetto alle Repstar che ci sono in commercio Poi il selettore ha 5 posizioni, quindi sono splittabili Quindi hai tutte le posizioni stratta anche Qua c'è il push-pull che c'è in realtà in tutte le Repstar Ed è un taglio a basse Sì, infatti non è uno split sulle Repstar Sì, sì, non è uno split, è un taglio a basse Che ti dirò non uso tantissimo L'ho usato live qualche volta quando mi accorgevo che magari il suono era troppo ciccioso E disturbavo il basso Ma magari con questi Imperial non ti servono nemmeno con i Lollar Ma no, no, l'ho usato rarissimamente davvero Non ci registro mai col push-pull attivato Ah, poi una cosa particolare è che il legno della tastiera è in pau-ferro Diciamo che a causa di queste restrizioni hanno utilizzato il pau-ferro Che però ha un vantaggio rispetto al palissandro di essere un po' più resistente all'intemperio E tu viaggiando parecchio magari cambia anche il clima Quando sei stato a Mosca, là dove eri, in Russia Peccato che non avevo questa quando ero a Mosca Ah, era in costruzione Mi hanno dato una chitarra che era lì, collection tanto Mi ricordo che in quella live Dove c'era tutta quella parte di tapping E praticamente ogni volta che facevo la Meron Il dito si rifiutava Mi ricordo che in quella E proprio in quell'occasione avevo visto questo video E ci sei tu incazzato Però si vede che la faccia è incazzata Che a un certo punto sbagli una cosa Fai proprio C'è disgustato Devo dire sta chitarra Gli do fuoco appena Quindi immagino che questa sia settata rasoterra Quasi più o meno Sì, quasi, quasi Non mi piace troppo il rasoterra Perché altrimenti senti troppo il fret-buzz Che non è proprio massimo della vita Dopo un po' mi dà un po' fastidio Queste sono le meccaniche che sono montate solo qui E infatti questa come stabilità è incredibile Viaggia E i legni, vabbè, questo dovrebbe essere Toppinacero, Badimogano È pieno oppure alleggerito? No, ci sono le camere tonali Ok Quindi è una chitarra molto molto leggera Qui c'era un pezzo di plastica Ma infatti quello ti stavo chiedendo dov'è? È caduto Non so dove No, scherzo Sarà qui da qualche parte Però non so perché Si è staccato Si è scollato Ma infatti vedo una cosa Che cos'è la verda colla? È un pezzo di... Sì, tipo un po' di colla rimasta Non la tratto bene questa chitarra Anche se non c'è Suono lo stesso È diciamo una piccola comodità in più Dovrebbe essere da qualche parte Forse... Era Super Custom California Anche quello L'hai perso Sì, è un pezzo di plastica Super Custom Super Custom Shop Californiano E altre chitarre oltre a questa qua? O c'è... Vabbè, questa è quella che usi di più ormai? Sì, questa è quella che uso di più Poi c'è questa qui Che è la chitarra per fare il jazz Io ho messo delle cordeliste Sì, sono delle Tomastik 012 se non sbaglio Eh sì, 012 sono dure Però siccome non ci faccio bending O tapping o cose varie La uso solo per il clean jazzistico E questa è standard? Questa è la normale Revstar se non sbaglio? Questa è la normale Revstar se non sbaglio? Ed esce con questi simil tv? Tipo questi pick up alla Gretsch? Sì, tipo quelli della Gretsch assomigliano Sì, quando non ho modificato Niente, me l'hanno data proprio così come la vedi Ha un po' meno segnale rispetto all'820 Che è quella azzurrina Con i... con i... con gli unbucker Che sono dei Seymour Duncan se non sbaglio Dal vivo solo quello E a casa hai qualche asso nella mia Qualche chitarrina che ogni tanto freghi a tuo padre L'ultima chitarra che ho fregato a mio padre È questa qui Che è brutta cosa da dire Però in realtà è vero, le le frego È una strata? Questa qui, sì È una Custom Shop del 2008 E questa la sto usando per registrare un brano Tra l'altro bellissimo Sì, si vede... si vede e non si vede per la qualità dell'immagine Ma si capisce che è tutto fiammato questo acero Sì, sì Bellissima davvero Con questa mi ci sto divertendo un sacco Anche perché sto imparando finalmente ad usare un po' la leva Che poi non ti abbiamo mai sentito o sbaglio con i Single Coil? No, no C'è un pezzo dell'album che sto registrando con i Single Coil Non sto usando proprio questa Sto aspettando di... che mi arrivi una pacifica Per qualche cosa Ok, sempre per rientrare Ovviamente il rumore di fondo Il classico dei Single Coil Però neanche tanto ti dirò Neanche... neanche... con Elix Almeno neanche tanto E per tutto quello che riguarda la creazione del suono Quindi avere... cioè il tuo suono Quello che tu usi Per esempio per quello che stai utilizzando Per registrare l'album che state facendo ora col trio Hai in mente qualcuno? Cioè c'è un'ispirazione a qualche chitarrista particolare? Oppure è una cosa tua? Cioè ho trovato il mio suono Arrivederci e grazie Cioè sei partito con una specie di referenza? Dici lui Ma in realtà no Nel senso che se partivo con... Cioè uno dei miei chitarristi preferiti Per quanto riguarda il suono Eric Johnson Se ho come riferimento a lui Finisco poi per avere un suono troppo simile Anche se poi il playing è completamente diverso Ecco il fatto che non usi plettro E quindi che ti manca una parte praticamente fondamentale Del suono in generale della chitara elettrica Questa cosa l'hai compensata in qualche modo particolare Nel modo in cui setti tutto Oppure di tipo Per esempio non ho attacco Quindi che ne so Le medie Le medie o basse Le aumento Perché magari non si... È un po' ammortizzato il dito sulla corda C'è un suono un po' più rotondo Meno Guarda in realtà Cioè da questo punto di vista Ho risolto suonando tanto Nel senso che Non penso sia una cosa La mancanza di attacco Per quanto riguarda suonare con le dita Ce l'hai soltanto se suoni senza unghia Completamente senza unghia Quindi tutto col colpastrello In quel caso hai un suono troppo debole Nel senso che non c'è attacco E tutto troppo... Quindi comunque te le tieni un po' lunghe le unghia Per arrivare Per dargli quella... Sì, sì Tu per dare quel tipo di attacco Devi avere per forza le unghie Infatti se vedi Qua un minimo di unghia le ho Invece in studio Per il discorso appunto Registrazione Cioè quello che tu utilizzi Come home recording Tra virgolette home recording Visto che se ci stai registrando un album Non sarà tanto home recording Cioè che cosa utilizzi Come si è organizzato lì dentro Per avere un... Diciamo tutto quello che ti serve Invece di andare in uno studio fuori Ma qui principalmente ho due postazioni Se adesso non sono attaccato ai monitor Sono attaccato al PowerCub La cassa di Elix sostanzialmente La cassa di Elix Ok Questo qui è il PowerCub Che uso occasionalmente Sì, l'ho avuto, l'ho avuto Questa postazione è per registrare Come ti dicevo Utilizzo l'Elix Stomp Che va direttamente al primo ingresso Della scheda audio C'ho un Universal Audio L'Apollo 8 Qui è come sto registrando Le chitarre per adesso E i cavi sono sempre tutti Lab Audio Technology Tutti quelli che utilizzo Sì, sì I cavi sono questo qui Lab Audio Technology Ah, abbiamo lo stesso? Ah, no Io non l'ho pipette Ce l'ho versione Però abbiamo lo stesso colore Con lo stesso, diciamo Esatto, esatto Sì, questo rosso Eccolo telato Sì È la cosa che adoro Di questi cavi È che non accumulano Pruvulazzo Come diciamo noi Come si suol dire Come si suol dire E traduciamo La polvere Sempre puliti E il mio studio È tutto fuorché pulito Quindi è una cosa Che mi piace molto E invece corde Che non ti ho chiesto Che corde usi Sulla Revstar Allora, in questo momento Sto usando dell'Elixir Sono delle Zero Diario Ma ti trovi quindi Con l'Elixir? Non le... Cioè, non ti credo? Ma ti dirò Ti dirò, sì In realtà Le ho provate La prima volta Che le ho provate Mi hanno dato Quella sensazione Di un po' di fastidio Che Soprattutto sui cantini Perché c'è questa sorta Di patina Di patina Lo vedi che poi diventa Bianchiccia Tipo a un certo punto Comincia a uscire Questo bianchiccio Dalle corde Per il resto Non usi completamente Pedali Cioè, no, no, no Cosa Ne utilizzi Ne hai un rack Con effetti a rack No, no Sì, sì No, io guarda Sono forse uno dei pochi chitarristi A cui non frega veramente Niente Riguardo la strumentazione Cioè, l'importante è che funzioni E l'importante è che la conosci bene Cioè, secondo me Avere una strumentazione Che conosci bene È ancora più importante Di avere una strumentazione buona Mi sembra che abbiamo coperto Un po' tutta la panoramica Del tuo rig Diciamo Live e studio Perché alla fine si somiglia È praticamente quasi la stessa cosa Sì, sì No, ma poi Alla fine è abbastanza scarno Perché solo Elix E per il resto Penso che non ci sia Altro da aggiungere Anzi, ti ringrazio ovviamente Di aver preso parte A questa A questa cosa Chiamiamola intervista Non lo so Come la possiamo chiamare Sì Allora Ciao Ci sentiamo E ci aggiorniamo presto Ciao, ciao 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 Grazie a tutti.